bella peco aspetto il video sull'etf bitcoin sono curioso di sapere la tua opinione e ancora cosa ne pensi citandomi questa notizia sul post quale notizia la recente approvazione da parte della sec che la consob americana al primo etf spot su bitcoin quindi nonostante me l'abbiate chiesto in vari con un commento sotto i nostri video me l'hanno chiesto anche i miei amici nelle chat di whatsapp che ti ho condiviso ho deciso di fare un video su questo tema che si aggiunge ad altri video che ho fatto in cui commentiamo l'investimento in bitcoin ma con un aggiornamento relativo a questa novità perché da giovedì ci sono i primi etf quotati negli stati uniti che hanno sottostante fisico in bitcoin fisico digitale nel senso che come capiremo in questo video sono i primi etf che all'interno hanno dei veri e propri bitcoin e non dei future di bitcoin come altri strumenti finanziari che permettevano di avere un'esposizione a bitcoin ma non erano equivalenti ad avere una posizione in bitcoin veri e propri ma capiremo la differenza tra poco prima dobbiamo fare un minimo di cronistoria riguardo a questa tematica cioè la lunga approvazione la lunga attesa per avere il primo etf spot di bitcoin innanzitutto definiamo che cos'è un etf spot un etf spot è un particolare tipo di fondo un etf che investe direttamente nella classe di investimento sottostante nell'asset sottostante quindi bitcoin gli aspetti interessanti appunto degli etf spot su bitcoin sono che a differenza di un etf che investe in contratti future associati a bitcoin che era l'altra tipologia di strumenti in cui si poteva avere un'esposizione a bitcoin chi compra l'etf detiene l'asset sottostante quindi bitcoin tramite un intermediario che è l'etf che vedremo tra poco che ha creato la scatola in cui sono contenuti i bitcoin quindi non è proprio diretto però è tramite un veicolo che direttamente ha al suo interno i bitcoin quindi prima di questa settimana esisteva un mondo in cui ti compravi bitcoin autonomamente su un exchange ad esempio coinbase li mettevi sulla tua chiavetta ok processo non alla portata di tutti sicuramente non dico difficile ma non alla portata di un baby boomer classico diciamo di mia madre per dire e questo ha avuto un impatto sulla diffusione di bitcoin dall'altra parte negli stati uniti potevi comprare un etf con dei futures quindi dei contratti derivati un po complessi che ti permettevano di avere un'esposizione a bitcoin ma non a possedere direttamente bitcoin attraverso un veicolo che tutti ben conosciamo se segui da un po questo canale che è l'etf da questa settimana è possibile inserire bitcoin all'interno di un etf e quotarlo sul mercato e questo è già stato fatto da varie case di investimento black rock vanek wisdom 3 e altri emittenti di etf che vedremo tra poco e i vantaggi quindi oltre ad avere un'esposizione diretta al bitcoin fisico chiamiamolo fisico perché di solito ci parla in questi termini quando si ci si riferisce a titoli finanziari è una replica fisica in questo caso una replica digitale perché rimane comunque un asset digitale quali sono altri vantaggi ovviamente l'accessibilità e la semplicità perché gli etf sono strumenti straconosciuti dagli investitori nell'antica italia ok in cui sono arrivati più o meno nel 2003 2002 direi sono quindi comunque vent'anni che gli investitori utilizzano chi più chi meno questi strumenti negli stati uniti sono arrivati una quindicina d'anni prima insomma è un veicolo di investimento straconosciuto e che solitamente e vedremo tra poco anche dei costi molto contenuti a questo si aggiungono vantaggi dal punto di vista della liquidabilità e della scambiabilità dell'etf e una regolamentazione di una trasparenza molto più elevata di quanto non si può avere al di fuori di un veicolo come l'etf perché l'etf ha un prospetto informativo che si chiama kid ha dei requisiti di trasparenza che richiedono appunto le istituzioni come la secco la consob e quindi è uno strumento alla portata di tutti alla portata della casalinga di voghera che non sa niente di mercati ma è interessata di investire in bitcoin questa è la particolare novità legata a bitcoin la possibilità di investire in bitcoin con uno strumento alla portata dell'investitore qualunque ok non dello smanettone dell'esperto di cripto ma dell'investitore qualunque e questo è un passaggio che ha richiesto molto tempo una lunga attesa per avere i bitcoin etf tra l'altro la cosa interessante che questo percorso per poter avere il primo etf spot su bitcoin ha richiesto più o meno una decina d'anni di tempo e pensate un po chi sono stati i primi a richiedere alla sec l'approvazione per poter fare un etf i fratelli vinkelvoss l'hai visto il film del social network in cui si parla della nascita di facebook e di mark zakenberg bene i soci di mark zakenberg nel creare facebook però soci guarda il film così capirei cosa è successo erano i fratelli vinkelvoss che si sono poi spostati pesantemente nel mondo cripto a partire più o meno dal da quando è nato bitcoin fondamentalmente e sono stati tra i primi investitori in bitcoin a tal punto che alla fine del 2021 la loro posizione in cripto aveva raggiunto 7 miliardi di dollari quindi avevano un prezzo di carico per bitcoin molto basso e nel 2021 con le valutazioni che aveva toccato bitcoin erano arrivati a questa cifra enorme che adesso sarà un po ridimensionata ma parliamo comunque di miliardari con bitcoin bene all'inizio la richiesta di un etf spot era stata rifiutata dalla sec e non si capisce perché la sec aveva approvato solo etf che avevano dei futures dentro quindi dei prodotti derivati e questa è stata una decisione non particolarmente compresa dagli investitori in cripto e dai fan del mondo cripto l'approvazione è stata del 2021 e non era chiaro perché fosse autorizzato un veicolo che dentro aveva dei derivati che sono degli strumenti comunque speculativi e non uno strumento che dentro aveva il bitcoin stesso che quindi comunque prevedeva una maggiore trasparenza verosimilmente rispetto ad un etf che dentro aveva dei futures su bitcoin dalla fine del 2021 tantissimi emittenti hanno provato a fare approvare il proprio etf spot su bitcoin ma sono stati tutti rigettati dalla sec che diceva che la natura non regolamentata di bitcoin creava troppo rischio per gli investitori questo non è stato preso particolarmente bene da tutte quelle istituzioni realtà finanziarie che operavano nel mondo cripto e il cripto asset manager di grayscale ha anche denunciato la sec su questo tema chiedendole anzi implorando il giudice di forzare la sec a fare maggiore chiarezza sulla questione appunto perché c'erano le incongruenze a cui mi riferivo precedentemente un etf con dei future di bitcoin ha provato un etf spot su bitcoin non ha provato ma a giugno dello scorso anno ha fatto l'application quindi la richiesta di approvazione di un etf spot su bitcoin niente po po di meno che blackrock quindi probabilmente il più grande gestore di patrimoni al mondo un gigante della finanza tradizionale è entrato nell'arena delle cripto e si è portata dietro altri giganti come fidelity franklin templeton eccetera dopo l'ingresso di questi colossi della finanza tradizionale nel mondo cripto e la loro manifesta intenzione di voler sviluppare etf su bitcoin evidentemente la sec non è riuscita a resistere alle pressioni e come abbiamo visto quindi recentemente ha dato l'ok a quotare i primi etf spot su bitcoin che sono arc 21 share bitcoin etf bitwise fidelity come diciamo prima flanking templeton grayscale che abbiamo visto prima invesco i share che è del gruppo blackrock vanek wisdom tree eccetera e quello che è interessante notare è il confronto tra le fee quindi quanto costa poter investire in un etf spot su bitcoin e i costi sono tipici degli etf quindi molto contenuti 0,25 per cento per vanek 0,29 per flanklin templeton i shares 0,20 0,30 insomma molto contenuti a tal punto che come commenta gabor gurbex costa meno tenere un etf bitcoin per un anno che non fare una singola transazione su coinbase e questo è un discorso per quella che è la tipica dimensione di acquisto cioè la montare investibile del retail quindi non so metti qualche migliaio di euro qualche migliaio di dollari quindi non cifre esagerate bene su coinbase paghi 40 60 punti base quindi 0,6 circa di costi di transazione fatto attraverso un etf il costo si riduce circa a 25 punti base quindi 0,25 per cento ci fa capire subito che un etf spot su bitcoin porterà ad una riduzione delle transazioni porterà ad una riduzione dei costi di transazione per comprare o vendere bitcoin perché sarà più facile dal momento che sarà fatto all'interno di un etf questo è un meccanismo un po complesso deve fare un atto di fede a cui si aggiungono tutta una serie di implicazioni che proveremo ad analizzare insieme adesso che derivano dal fatto che adesso è uno strumento che potremmo dire entra in una fase più matura esce dall'essere uno strumento di nicchia e diventa uno strumento di investimento investibile dal grande pubblico online ho visto circolare questo grafico che faceva vedere come dal momento in cui è stato creato nel primo novembre del 2024 il primo etf spot sull'oro quindi stessa cosa che stiamo discutendo adesso per bitcoin fatta per l'oro e che quindi permetteva agli investitori di acquistare oro non sotto forma di oro fisico da tenere in una cassetta di sicurezza ma sotto forma di etf che all'interno aveva dell'oro fisico bene questo ha portato ad una crescita del prezzo dell'oro molto importante ad una prima analisi questo è un po il tema perché i grafici possono essere interpretati e non penso proprio che questa considerazione si possa fare in modo analogo per bitcoin nel senso che un etf spot sull'oro ha permesso sicuramente di scambiare più facilmente una classe di investimento che però era stranota agli investitori e la cosa non si può dire di bitcoin nel senso che mia mamma sa che cosa è l'oro mia mamma non sa che cosa è bitcoin quindi tra l'altro il nostro riferimento sempre sono i baby boomers quindi la generazione dei miei genitori che commentiamo spesso su questo canale non vale solo per l'italia non vale per l'europa ma anche per gli stati uniti sono la generazione che ha maggior patrimonio quindi sono loro che devono entrare in bitcoin per vedere grosse evoluzioni di prezzo ovviamente loro più gli investitori istituzionali quindi questo grafico a mio parere non ha un gran senso perché mischia l'introduzione di un'innovazione tecnologica l'etf spot sull'oro a un'evoluzione di prezzo di una classe di investimento stranota che è sempre stata all'interno dei cavo delle banche centrali e che aveva una sua evoluzione di prezzo storica al di là dell'innovazione tecnologica quindi del primo etf spot sull'oro per bitcoin la situazione è molto diversa perché prima dell'etf spot su bitcoin era piuttosto difficile per grossi investitori retail poter accedere all'investimento in bitcoin e lo so cosa stai pensando sì ma io non ho avuto grossi problemi a comprare bitcoin certo ma tu non sei la media tu sei un appassionato di questi temi segui un canale di finanza personale di investimenti è ovvio che hai una particolare interesse per questo tema il vero target è la generazione dei miei genitori che magari va dalla detto titoli in banca dal private banker queste figure che danno consulenza finanziaria difficilmente fino ad oggi hanno inserito bitcoin all'interno dei portafogli dei loro clienti proprio perché era difficile investirvi ed è per questa ragione che questa notizia è indiscutibilmente una notizia rilevante per tutto il mondo cripto questa approvazione da parte della sec da parte dell'ente regolatore ridurrà ci sono molte aspettative non sappiamo che effetto avrà nel breve medio periodo ma è ragionevole pensare che ridurrà le paure da parte di certi investitori nell'investimento all'interno del mondo cripto perché appunto grazie alla struttura dell'etf che ha una sua trasparenza una sua regolamentazione permette agli investitori di investirvi attraverso delle istituzioni finanziarie tradizionali ben conosciute agli investitori stessi abbiamo visto appunto fidelity black rock wisdom 3 di cui magari la casalinga di voghera già un paio di etf sull'azionario americano l'azionario dei paesi emergenti quindi conosce l'azienda in questione e quindi è meno diffidente però attenzione perché il numero uno della sec dice attenzione non deve cambiare la percezione di rischio su bitcoin cioè attenzione abbiamo approvato il listing quindi la possibilità di negoziare tf spot su bitcoin e di conseguenza il trading lo scambio di questi strumenti ma non approviamo non consigliamo bitcoin e gli investitori dovrebbero essere molto cauti per quanto riguarda la miriade di rischi associati a bitcoin e prodotti cripto in generale quindi l'obiettivo di questo video adesso è di fare qualche riflessione insieme su questa novità che è indiscutibile che sia molto importante e di cui vogliamo ragionare sulle implicazioni vogliamo ragionare però con un approccio razionale ok non da cripto evangelista che risponde a qualunque domanda di investimento o qualunque problema nel mondo con bitcoin risolverà questo bitcoin sistema al mondo ci proteggiamo solo con bitcoin compra nuovi bitcoin l'unica soluzione è il bitcoin può investire nei breaks no meglio bitcoin ecco cerchiamo di essere un po più analitici e meno dogmatici soprattutto alla luce delle aspettative perché lo so che adesso molte persone diranno beh quindi adesso che è stato sdoganato non può che andare a 500 mila dollari e oltre dopo tutto ti ricordi che nel 2021 si diceva sempre to the moon to the moon e c'erano previsioni come queste no il primo settembre 2021 bitcoin toccherà 100 mila dollari alla fine dell'anno e ancora tom lee 100 mila dollari alla fine dell'anno ecco così non è stato si è toccato un picco di 56 mila dollari e poi nel 2022 una discreta correzione che ha portato bitcoin fino a 15 16 mila e adesso nel 2023 ha avuto un grandissimo rimbalzo cerchiamo di analizzare quali sono le possibili implicazioni fare qualche riflessione in generale su questa che sta diventando una classe di investimento il problema associato a bitcoin è il problema associato a tutte le commodities tra l'altro a livello regolamentare è stato proprio inquadrato come una commodity quindi come l'oro come una materia prima l'oro che cos'è l'oro è quello che viene definito store of value quindi una riserva di valore proprio perché è una classe di investimento che mantiene il suo valore invece che deprezzarsi cosa si intende deprezzarsi non non che non ha variazioni di prezzo perché ce l'ha variazioni di prezzo sia l'oro sia bitcoin e lo conosciamo bene la volatilità del bitcoin non si deprezza nel senso che è qualcosa che non deperisce c'è un lingotto d'oro è un lingotto d'oro adesso e lo sarà tra un secolo non non deperisce come un immobile un immobile tra un secolo questo edificio tra un secolo avrà bisogno di un po di ristrutturazione magari cadrà a pezzi e verrà raso al suolo si deprezza perde valore con il passare del tempo una riserva di valore è proprio un asset cioè patrimonio che mantiene il suo valore senza deprezzarsi però a differenza di altre classi di investimento che apprezzo maggiormente come azioni obbligazioni o immobili a reddito una commodity quindi una materia prima che sia oro o che sia il bitcoin non producono dei flussi monetari se prendiamo un'azione un'azione che cos'è un pezzo di un'azienda e questa azienda se non fallisce produce degli utili e questi utili vengono distribuiti come dividendi agli investitori oppure un'obbligazione che cosa genera interessi che vengono dati agli investitori oppure un immobile rendita che cosa genera una rendita un affitto che viene incassato dall'investitore c'è sempre un flusso monetario quindi io come investitore posso guadagnare sia dall'apprezzamento del mio investimento compro l'azione 100 e la rivendo a 120 ho guadagnato ma posso guadagnare anche dall'investimento stesso cioè dal flusso monetario che viene generato dall'investimento potrei anche non rivendere mai la mia azione ma se la mia azione mi produce dei dividendi io ho un guadagno questo è possibile con tutte quelle classi di investimento che producono flussi monetari azioni obbligazioni immobili a rendita bitcoin non produce flussi monetari quantomeno non direttamente sì è possibile prestarlo e ottenere una sorta di remunerazione affittandolo tra virgolette ma ha dei rischi associati non è sicuramente una cosa fattibile da mia madre o da un baby boomer quindi diciamo che nella maggior parte dei casi per l'investitore qualunque si guadagna dall'investimento in bitcoin se trovi qualcuno che tra dieci anni o qualunque sia il tuo orizzonte temporale che te lo paga un prezzo più alto rispetto a quello che l'hai pagato tu e questa caratteristica che è di fatto la stessa che ha anche loro per dire lo rende una classe di investimento con una forte componente speculativa proprio perché non guadagno da quello che ho comprato cioè da quello che viene generato dall'investimento che ho comprato ma guadagno dalla speranza nel domani di trovare qualcuno che vorrà pagare di più di quanto ho pagato io questo determinato investimento e questa cosa qui non è trascurabile non è solo un discorso di definizioni cos'è un investimento cosa non è e diciamo che su questo canale si segue la filosofia dell'analisi finanziaria di benjamin graham quindi un investimento è qualcosa di cui posso stimare un rendimento facendo un discounted cash flow quindi facendo un'analisi dei flussi finanziari future se non hai capito fai finta di niente di cui posso misurare la redditività ok se non posso fare un'analisi della redditività rimane un investimento con una forte componente speculativa potenzialmente una scommessa c'è un altro aspetto da considerare che se io guadagno solo se altre persone credono in questo investimento e se l'adozione aumenta questo di fatto porta dei conflitti di interesse no quali sono i conflitti di interesse beh tutte le persone che credono in bitcoin hanno un conflitto di interesse nel senso che se io ipotizziamo non ho mai investito in bitcoin e adesso decido di investire loro trovano un nuovo potenziale compratore quindi questo fa sì che ci sia un incentivo da parte di evangelisti di bitcoin early adopters o persone che ci hanno creduto tanto all'inizio a reclutare nuovi investitori in bitcoin e questo può essere vero per il piccolo investitore chi ci ha messo i suoi primi 5000 euro per dire o anche il grandissimo investitore come i fratelli vinkelvoss che hanno investito in bitcoin un paio di miliardi di dollari e se ci pensi questo meccanismo quanto è diverso da uno schema ponzi potremmo parlarne ma a diverse cose che ricordano uno schema ponzi in cui non guadagni da quello che è la proposta di investimento ma guadagni convincendo altre persone ad entrare in questo investimento perché è importante fare questa precisazione perché è ovvio che adesso c'è un gran parlare di questa nuova innovazione che apre le porte a nuovi investitori in bitcoin ma è proprio quello che potrebbe spingere persone che hanno un conflitto di interesse a volerne parlare no magari gente che ha comprato bitcoin con dei prezzi di carico molto più bassi che adesso vuole che entri in bitcoin la grande massa di investitori per andare a rivenderli perché è l'unico modo in cui possono capitalizzare un guadagno e attenzione perché molto spesso viene detto che questo canale sponsorizzato dai poteri forti che è indiscutibile che ci siano spesso ci scherziamo su questo canale ma è indiscutibile che ci siano ma non penso abbiano l'influenza che pensa abbiano la maggior parte delle persone però sta di fatto che potenzialmente queste grandi istituzioni finanziarie sono i poteri forti e chi lo sa se queste non hanno già investito anzi possiamo intuirlo ma non ho i dati quantomeno qui a portata di mano in bitcoin tempo fa e adesso vogliano che questa sia scambiata da sempre più persone possibili così da uscire dal mercato sarebbe un trade perfetto tra l'altro istituzioni come blackrock sono i più grossi gestori di patrimoni del mondo quindi è ovvio che da quando hanno loro fatto l'application cioè la richiesta di apertura di un etf spot in sei mesi si è verificata ma non lo so coincidenze io questo non credo e a questo si aggiunge una serie di considerazioni a mio parere paradossali molte persone sono fan di bitcoin e della sua tecnologia perché bitcoin ti dà il reale possesso dei tuoi fondi ti dà la vera libertà finanziaria bitcoin la salvezza è l'unico asset inattaccabile e indistruttibile indistruttibile non so in che modo un etf azionario possa essere distrutto ma per giovanni è indistruttibile è l'unica vera banca mondiale sempre giovanni ma quello che ti prego di notare molti fan di bitcoin ritengono che sia la vera soluzione per avere il reale possesso dei tuoi fondi e quello che trovo grottesco è come si possa essere entusiasti della notizia che adesso viene quotato un etf spot su bitcoin che di fatto è il contrario della decentralizzazione è la centralizzazione è l'ingresso di wall street all'interno di quello che doveva essere un mercato decentralizzato quindi paradossalmente la crescita del prezzo di bitcoin non è coerente con la ragione per cui è stato creato cioè di scambiarsi valore senza passare da wall street dalle banche e dalle case di investimento adesso sarà possibile farlo grazie alle case di investimento ti rendi conto che la cosa non ha un gran senso quindi alla luce di queste considerazioni quali aspettative avere relativamente al futuro di bitcoin all'evoluzione del prezzo di bitcoin dal mio punto di vista questa notizia è da un certo punto di vista importante da un altro punto di vista totalmente ininfluente su quelle che sono le mie aspettative su bitcoin nel senso che continuo a considerare bitcoin una classe di investimento con una forte componente speculativa che mi porta nonostante ci sia un etf quotato a non voler aumentare in modo importante la sua posizione all'interno del mio portafoglio e a non suggerirla ai nostri clienti di piano finanziario società di consulenza in altre parole di tenerla all'interno del portafoglio in una percentuale molto contenuta io personalmente faccio fatica ad andare oltre l'un per cento del mio portafoglio e questo è un modo di interpretare la notizia il sottostante non è cambiato e quindi la mia percezione su bitcoin un investimento o una scommessa non è cambiata allo stesso tempo e dalla ragione per cui ho aperto una posizione su bitcoin è indiscutibile che questa classe di investimento adesso ha più possibilità di espandersi di quanto non ne avesse possibilità prima dell'esistenza di un etf spot su bitcoin e quindi sono ancora vere le ragioni che mi hanno spinto ad aprire una posizione su bitcoin cioè il fatto che se questa classe di investimento entrasse con un peso dell'un per cento nel portafoglio di tutti gli investitori del mondo ma il prezzo potrebbe potenzialmente decuplicare di bitcoin su questo dato sto andando a memoria non sono riuscito a ritrovare l'articolo che avevo letto a suo tempo però è indiscutibile che se l'adozione aumenta e prende una quota non dico il peso dell'oro all'interno del portafoglio medio dei degli investitori ma anche fosse un terzo la metà del peso dell'oro all'interno di un portafoglio diversificato di un baby boomer di mia mamma per dire beh questo porterebbe ad una domanda di bitcoin veramente altissima che si sommerebbe all'altro tema in questione per bitcoin che tra pochissimo ci sarà il prossimo halving di bitcoin e successivamente la bull run potrebbe portare bitcoin a 100.000 dollari potrebbe in maiuscolo in linea teorica in linea minuscola il tema è proprio questo potrebbe chi lo sa quindi torniamo al discorso di prima non vi è alcuna garanzia non essendoci flussi monetari è una speranza e di questo se ne rende conto max in black 99 85 è comunque un rischio e se fossi sicuro mi venderei la casa e farei all in grazie graziella e finisci tu la frase è ovvio che non vi è certezza ma non è che non vi è certezza perché neanche negli investimenti tradizionali vi è certezza perché comunque possiamo avere delle aspettative sui rendimenti futuri magari a dieci anni dell'azionario no però non vi è garanzia e magari il rendimento potrebbe essere dal 6 al 12 per cento medio anno ok ci sono valutazioni che comunque presuppongono una moltitudine di scenari futuri che però tendenzialmente nell'azionario sappiamo che se il periodo di detenzione è sufficientemente lungo a livello storico ok e questo è sufficiente per classe di investimenti con flussi monetari per fare future che ci sia un guadagno compreso tra un minimo e un massimo per un nazionario ma per bitcoin questa cosa comunque non si può fare non si può stimare rendimento atteso di bitcoin dove per stimare intendo con un calcolo realistico credibile e non roba che trovo particolarmente grottesca dal punto di vista dell'analisi finanziaria come il bitcoin rainbow price chart non so chi si possa affidare a questo tipo di analisi per acquisire sicurezza sul proprio investimento in bitcoin l'evoluzione del prezzo sarà comunque legata all'evoluzione dell'utilizzo di bitcoin all'interno dei portafogli e l'impatto che questo avrà sui prezzi è stimabile ma rimane una speranza e quindi mi fa dire bene ben venga l'introduzione dell'etf spot su bitcoin perché rende più probabile quella che è la scommessa che io personalmente ho fatto quando ho comprato bitcoin ma non cambia la mia posizione che bitcoin rimane una scommessa e che in quanto tale deve avere un peso limitato all'interno del mio portafoglio quindi